La lunga chiusura forzata ha provocato un calo del fatturato del 95% e anche la riapertura nei mesi di settembre e ottobre è stata caratterizzata da molte incertezze e dal sempre più massiccio passaggio alla modalità digitale, che garantisce una maggior sicurezza e permette di evitare qualsiasi forma di assembramento. Gli allestitori di fiere sono in crisi profonda, siamo stati dimenticati dal governo, dice Fabio Gobbo, titolare della Gobbo Allestimenti di Legnano insieme al fratello Roberto. Per noi nessun ristoro. Siamo fermi dal mese di marzo, a fine febbraio con la chiusura delle fiere hanno bloccato la nostra attività e da allora, a parte una leggera ripartenza nel mese di settembre e ottobre, praticamente non abbiamo più lavorato. Siamo a meno del 95% del fatturato, in sostanza. Quando siamo ripartiti a settembre e ottobre abbiamo fatto veramente poco e poi ci siamo fermati di nuovo, addirittura a Parma c'erano gli stand montati, ci li hanno fatti smontare perché la fiera non si poteva fare. E anche guardando al domani, i tempi della ripresa sembrano essere lunghissimi. C'è una totale incertezza anche sulla ripresa della nostra attività perché se anche da gennaio, febbraio, si potesse riprendere a fare le fiere, ovviamente per preparare una fiera e per preparare gli allestimenti ci vogliono mesi e mesi di lavoro. Di conseguenza, se tutto va bene, noi riprenderemo a lavorare in maniera discreta, si spera aprile-maggio o addirittura settembre del 2021. Quindi i tempi per noi sono lunghissimi. Abbiamo bisogno di aiuti concreti e immediati, conclude Gobbo. Il sistema dei ristori con il codice Ateco è un sistema completamente nipo. Hanno dato un codice Ateco per chi noleggia elementi per gli eventi, ma questo dà diritto al ristoro soltanto al 10% delle aziende di allestimenti. Il 90% delle aziende è rimasta fuori, la nostra compresa. La cosa migliore in assoluto sarebbe ristorare in base alla perdita di fatturato. Con la fatturazione elettronica possono vedere praticamente tutto in qualsiasi momento. Di conseguenza sarebbe l'elemento, il parametro più immediato e più corretto che ci possa essere.